Il mondo dell'asservimento macchina utensile si è basato fino a oggi sostanzialmente su due soluzioni differenti. Il carico diretto del pezzo dedicato a lotti di grandi dimensioni e il pallet handling dedicato a soddisfare le esigenze di lotti di piccole dimensioni. L'idea che sta alla base del nostro nuovo sistema RC2 è quella di colmare il divario tra le due soluzioni appena citate per soddisfare le esigenze delle produzioni di lotti di medie dimensioni. Questo sistema riesce infatti ad unire i vantaggi di entrambe le soluzioni in quanto abbiamo un robot in grado di equipaggiare il centro di lavoro con l'attrezzatura idonea alla lavorazione da eseguire mantenendo però ingombri e costi contenuti tipici delle semplici automazioni di carico diretto. In poche parole il sistema è costituito da un modulo da montare sul polso del robot che è in grado di agganciare la morsa necessaria lavorare il pezzo specifico ed usarla prima come pinza per prelevarlo dal magazzino dei grezzi e poi come vera e propria morsa posizionandola in macchina grazie ad un modulo a punto zero shung vero s che ne garantisce il corretto serraggio e centraggio con una ripetibilità inferiore ai 5 micron. Il modulo è in grado di serrare la morsa alla forza desiderata fino a 35 kg newton ed è in grado di manipolare fino a 35 kg morsa inclusa. Parlando di morse il sistema è costituito da quattro morse che ci permettono di serrare pezzi fino a 226 mm con una forza di 35 kg newton. Riassumendo il sistema RC2 ci permette di eseguire il carico e scarico del pezzo e allo stesso tempo il riattrezzaggio del centro di lavoro con la morsa idonea alla sua lavorazione. È un sistema poi idoneo a lavorare in un contesto completamente non presidiato quindi di notte oppure nei weekend. Grazie. Grazie.